Eccoci qui con Fetisso Alessandro, il milione in campo della partita che i Polo Sud hanno vinto per 2-1 contro Iapo e Larchè. Allora Alessandro, raccontaci un po' com'è andata la gara. Allora, è stata una partita difficile, inizialmente siamo andati sotto di un gullo, però grazie al nostro capocannoniere, Ciro Napolitano, abbiamo segnato due gulli, abbiamo rimontato e abbiamo vinto. Ragazzi, è una partita molto combattuta, quindi cosa possiamo chiedere a questo gruppo di Polo Sud per quest'anno in Serie D? Quest'anno noi esploderemo come abbiamo fatto già nel campionato invernale dell'anno scorso e l'abbiamo vinto e noi vinceremo anche quest'anno. Perfetto, invece è un obiettivo che ti puoi impostare come livello personale dopo questa bella prestazione? Cercare di subire meno goal e marcare meglio individui. Va bene, grazie.